Ancora una volta dietro un innocuo abbraccio si cela il furto del portafoglio e ancora una volta vittime due anziani. Gli episodi fotocopia sono accaduti ieri a Mogliano Veneto a breve distanza l'uno dall'altro. Il primo intorno alle 9.30 quando un ultraottantenne a pochi metri da casa è stato avvicinato da una donna che con una scusa lo ha abbracciato per poi allontanarsi subito dopo. Solo più tardi l'anziano si è reso conto che in quel fragente gli era stato portato via il portafoglio con all'interno i documenti e 100 euro in contanti. Un'ora più tardi è un 72enne a cadere nella trappola attesa anche stavolta da una donna che dopo avergli chiesto se soffriva di dolori lo ha stretto in un abbraccio e poi se n'è andata. Una volta a casa l'uomo si è reso conto di non avere più il portafoglio e i 50 euro contenuti. Vista la tecnica utilizzata, il luogo in cui i fatti si sono svolti e il breve lasso di tempo potrebbe trattarsi della stessa donna ma spetterà i carabinieri di Mogliano affiancati dai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Treviso a dare un nome e un voto ai responsabili. In questo saranno importanti le riprese delle telecamere della zona ora al vaglio dei militari che stanno anche analizzando le testimonianze e altri elementi raccolti.